Andres Neumann, creatore di eventi culturali, nato in Sud America da genitori europei, è il nuovo collaboratore del Comune per lo sviluppo dei grandi eventi artistici e culturali ed è stato presentato oggi a Palazzo San Giacomo. Se una personalità come la sua, che ha un'esperienza globale, una statura internazionale indiscutibile, decide di impegnarsi su Napoli, di dare una mano a tutti quanti noi e di essere da questo punto di vista un supporto e un punto di riferimento, credo che questo possa servire un po' da appello a tutti ad avere consapevolezza, generosità e soprattutto voglia di dialogare. Andres Neumann ha una storia, una competenza ma soprattutto una passione. Noi riteniamo che la cultura sia economia, sia grandi possibilità di lavoro, di rilancio sempre di più della nostra città, sia turismo. La cultura serve per far scoprire i tesori della nostra città e dimostrare che il prodotto interno lordo della nostra città si fonda sulla bellezza e sulla cultura e lui ci può aiutare a far conoscere e scoprire tutto questo. Neumann ha lavorato soprattutto in Uruguay, Francia ed Italia, dove si è stabilito per curare organismi teatrali, stagioni e manifestazioni, in particolare a Firenze e dove ha fondato una società di produzione e distribuzione di spettacoli d'arte con la quale ha seguito tra gli altri Peter Brook, Ingmar Bergman, Angei Vaida, Pina Bausch, Dario Fo, Vittorio Gasman e Marcello Mastroianni. E fra i primi impegni che dovrà affrontare ci sono il PAN ed il Forum delle Culture. Napoli è una città di una creatività unica al mondo, l'aspetto che cercherò di contribuire è con la progettualità perché se non c'è creatività assieme a progettualità spesso si perde gran parte della sostanza che la creatività produce. I giapponesi sono sempre stupiti della creatività italiana ma sono anche stupiti del fatto che non la sanno sfruttare e questo quindi cercheremo di valorizzare, di potenziare quello che c'è con una progettualità.